Vietato abbandonare cibo nella villa comunale. Ai trasgressori una multa di 50 euro con obbligo di immediata rimozione di esso. Queste le disposizioni stabilite dal vice sindaco Rocco Mangini e dall'assessore al verde e al decoro urbano Cosimo Buonasia per favorire la derattizzazione che avrà luogo, con un terzo intervento, dall'8 all'11 settembre. La battaglia contro i ratti che stanno invadendo la città si avvarrà dell'utilizzo di 5 speciali trappole tecnologiche e ulteriori esche efficaci. Gli addetti ai lavori si augurano di risolvere definitivamente il problema dopo un primo intervento effettuato tra il 21 e il 24 luglio ed un secondo a metà agosto. Il tutto per garantire una serena convivenza fra cittadini ed evitare la temporanea chiusura della villa comunale, unico vero spazio verde della città dedito al passeggio e allo svago dei più piccoli.